eccomi qua buongiorno anzi buon pomeriggio adesso è parecchio tempo che non faccio più video ma tre mesi fa sono caduta mi sono rotta tibie perone frattura scomposta per cui sono sono stata operata adesso sono ancora con il fissatore esterno perché ci sono stati dei problemi per sistemarmi la gamba adesso la gamba è sistemata e posso fare questo breve video allora siamo nel mese di ottobre che è il mese del rosario che l'ultimo è nel mese in cui c'è stata il 13 ottobre l'ultima apparizione della madonna fatima ed è anche il mese che si concluderà con quella orrida orrida festa che tutti conoscono come Halloween cioè la festa pagana una festa assoluta festa non è una festa perché noi cristiani cattolici festeggiamo il primo novembre tutti i santi quindi è il buon onomastico di tutti noi che non portiamo magari un santo conosciuto il nome di un santo conosciuto comunque è l'onomastico di tutti e poi il 2 di novembre festeggiamo tutti i defunti tutti i nostri cari che ci hanno preceduto ma cosa c'entrano le zucche cosa c'entrano questi queste feste così pagane ho sentito un video di una bambina che aveva dieci anni che diceva che queste feste sono le feste delle tenebre effettivamente streghe fantasmi che ne so zombie tutte cose tutte cose che non solo non appartengono alla nostra cultura sono brutte bruttissime orride da vedere non c'è un senso io posso capire negli stati uniti dove è nata questa festa la è la loro cultura la loro loro la loro usanza ok mi può anche star bene ma qui in italia questa cultura fino a qualche anno fa non esisteva adesso c'è cominciata la pubblicità del kinder con i fantasmi con le ali di pipistrello sono cose orrende che a parte come diceva questa bambina io vorrei essere capace di poter inserire degli altri video nel mio canale così metterei questo video che spiega chiaramente il no a questa festa dieta da una bambina da una bambina che avrà 8 anni 8-10 anni che parla che noi veniamo da Gesù che noi siamo figli della luce non figli delle tenebre come scrive San Paolo eppure prendiamo tutte queste schifezze le cose più lontane da noi e le facciamo diventare una festa importante scherzetto e dolcetto non è un semplice scherzetto dolcetto è un invito alla vendetta nascosti da questi orri di maschere si possono commettere le peggiori nefandezze e i bambini non devono essere iniziati alla magia perché non esiste la magia bianca esiste solo la magia nera alla magia al brutto alle tenebre all'oscurità al male è una cosa assurda veramente assurda per cui veramente invito caldamente a non partecipare a queste feste a non travestire i bambini da mostri a non prendere le zucche usate il cervello non la zucca la zucca è vuota veramente il cervello funziona o almeno fatelo facciamolo funzionare ce l'abbiamo non è che abbiamo la testa solo per metterci sopra un cappello no abbiamo la testa per ragionare quindi queste cose così brutte evitiamole c'è già tanto brutto in giro ma proprio dover festeggiare il brutto e l'orrido è la cosa che passa all'immaginazione e io con questo ho finito mi ringrazio e ci sentiamo alla prossima ciao